Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po' firmato la sovrintendenza e nella lettera c'è scritto che Goldrake in piazza Garibaldi non ci potrà andare. Per voi è una bella notizia o una brutta notizia? Ma io innanzitutto mi sento di smentire questa notizia perché non è assolutamente così, non c'è una risposta della sovrintendenza in quel senso, ma per il motivo che abbiamo sempre denunciato anche come amministrazione comunale, prima di potersi pronunciare in quel senso è necessario che vi sia un progetto. Il progetto ad oggi non c'è, c'è un'idea progettuale, lodevole, fatta da Carmine Di Giandomenico che va ringraziato per l'amore che sta dimostrando nei confronti della sua città. Ad oggi però siamo in una fase estremamente primordiale per il quale è impossibile pronunciarsi in un senso o nell'altro, evidentemente sarà necessario andare ad approfondire, quel che è certo è che la sovrintendenza ribadirà quello che è noto su piazza Garibaldi, ossia il fatto che vi incide un vincolo di natura architettonica e quindi una tutela parziale su quella piazza. Lei ha iniziato a rispondere dicendo che smentisce che non ha ricevuto nessuna lettera da parte della sovrintendenza, allora come fa a conoscere così bene il pensiero? Guardi, io non ho smentito di aver ricevuto la risposta dalla sovrintendenza, ho smentito il fatto che la sovrintendenza abbia risposto sul no al progetto Goldrick. Ripeto, la sovrintendenza non ha detto no a nessun progetto, innanzitutto perché non è stata mai interpellata su questo, seconda cosa per i motivi di cui prima. Però vi ha scritto? Certo, noi abbiamo scritto la sovrintendenza perché avevamo assunto un impegno con i progettisti di chiedere un confronto alla sovrintendenza in merito a questo. Ecco, ma non sarebbe più giusto che un'amministrazione comunale piuttosto che di Goldrick si preoccupasse che a Piazza Garibaldi magari c'è una situazione di degrado, soprattutto di notte, che andrebbe arginata e combattuta? Io credo che l'amministrazione comunale si deve occupare del progetto Goldrick, del rilancio culturale della città e contemporaneamente di tutte le tematiche che sono state citate. Il nemico di Goldrick è cambiato, non è più Vega, ma è comune di Teramo. Assolutamente no, noi non siamo nemici del progetto Goldrick, non siamo nemici di Carmine Giandomenico che anzi in ogni occasione abbiamo ringraziato per la passione e l'amore che sta dimostrando nei confronti della sua città. Dopodiché amministrare significa dimostrarsi con la concretezza del quotidiano, confrontarsi con quelli che sono gli atti che necessariamente devono essere messi in campo. Nessuno di noi è al di sopra della legge, ma dobbiamo rispettarla e quindi evidentemente anche il progetto Goldrick deve inserirsi in un contesto per cui evidentemente vanno rispettati tutti quanti i vincoli che sono presenti nella normativa italiana.